Il testo narrativo è un testo che narra una storia, cioè racconta una vicenda costituita da una serie di eventi relativi a uno o più personaggi che si muovono, agiscono in un tempo e in un luogo. La struttura tipo del testo narrativo si articola in quattro fasi. Situazione iniziale, rottura dell'equilibrio iniziale, sviluppo, situazione finale o conclusione. Una domenica, una bambina venne accompagnata dal padre a un parco di divertimenti e insistette per fare un giro su una bellissima giostra con dei grandi cavalli bianchi. Il padre ha consentì e sistemò la figlia su un cavallo. Rottura dell'equilibrio iniziale Ma appena la giostra partì, la bambina cominciò a urlare che l'animale la stava mordendo. La vicenda si sviluppa attraverso eventi che possono peggiorare o migliorare la situazione iniziale. Ma che bugie vai raccontando, le chiese il padre incredulo. La piccola però insistette piangendo, e così l'uomo chiese che la giostra venisse fermata. Si scoprì allora che il cavallo era pieno di crepe, all'interno delle quali si erano insinuati minuscoli e velenosissimi serpenti. La povera bambina venne portata d'urgenza all'ospedale. Grazie